Noi stessi cari siamo invitati e Padre Pio invitava a vivere la Santa Messa in questa disposizione come un bambino che rimane stupito davanti alla presenza di Cristo crocifisso e risorto che ci permette di rimanere sconvolti della bellezza e permettere che si imprima nel nostro cuore queste ferite che ci parlano dell'amore misericordioso. Lui era un uomo dell'Eucaristia e era un uomo anche del perdono, proprio perché in Lui la vita di Cristo aveva diventato una vera immagine. Avviciniamoci a questa Eucaristia in questo giorno con questa innocenza, recettività, desiderio che l'amore di Cristo anche ci transfiguri noi stessi.